Buona serata, nuova edizione del tv giornale di Telestense. In questo appuntamento vi racconteremo come è stato il ferragosto dei ferraresi sotto vari punti di vista. Intanto dal punto di vista dei controlli, nel dettaglio vi racconteremo quello che è accaduto sul litorale e anche in città, ma parleremo anche del meteo, un meteo che vede ancora temperature alte ma siamo prossimi a una tregua temporanea per quello che riguarda appunto le temperature di questi ultimi giorni. Parleremo anche di Covid ma anche di vaccinazioni, da oggi hanno preso il via le vaccinazioni senza prenotazione per gli under 19. Ci occuperemo anche della Savonarola che è stato ufficialmente scoperto oggi in città, quindi terminati i lavori del restauro e poi anche il calcio, la Coppa Italia. Andremo a raccontarvi quello che è successo purtroppo sabato sera con l'esclusione della SPAL che è stata sconfitta per 2 a 1 dal Benevento. Cominciamo però subito parlando delle temperature fortunatamente in calo nelle prossime ore dopo un weekend di ferragosto con picchi climatici particolarmente elevati. Sentiamo. Le temperature elevate di questi giorni stanno per cedere il passo ad un fronte di aria più fresca nordatlantica che mitigherà il clima per le prossime ore. L'Italia intera esce da un weekend particolarmente caldo e affoso che nel sud Italia ha superato abbondantemente i 40 gradi e che a Ferrara ha raggiunto i 39 con un tasso importante di umidità. L'estate tuttavia non è terminata e già dal prossimo fine settimana sono previste condizioni climatiche analoghe a quelle degli ultimi giorni. Intanto le previsioni meteo anticipano l'arrivo di piogge temporali inizialmente su Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che gradualmente scenderanno coinvolgendo alcune zone dell'Emilia Romagna e delle Marche nella giornata di martedì 17 agosto. Non sono escluse locali grandinate e forti raffiche di vento. Intanto il caldo ferragosto ha registrato un forte afflusso di turisti anche di provenienza estera. Alcuni disagi hanno coinvolto sabato 14 l'Ido degli Estensi con un blackout che ha interessato diverse zone della località costiera rovinando in parte i festeggiamenti del cumulino dell'estate in una serata in cui molti ristoranti avevano registrato il tutto esaurito. A parte questa parentesi soddisfazione da parte dei gestori di locali e stabilimenti balneari che hanno avuto riscontri positivi sugli afflussi turistici che sembrano non rallentare nemmeno per i prossimi giorni. E parliamo di cronaca purtroppo c'è stato un grave incidente ieri sera quindi nel giorno di ferragosto alle 20 sulla Romea a Porto Garibaldi. Impatto tra auto e moto e il motociclista un veronese di 33 anni ha riportato lesioni gravi ed è stato portato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale maggiore di Bologna. Illeso invece il conducente si tratta di un uomo del Comacchiese. Secondo i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente lo scontro sarebbe avvenuto mentre l'auto stava svoltando dalla Romea verso il parcheggio di un supermercato. E parliamo sempre di ferragosto di questo fine settimana di controlli serrati da parte delle forze dell'ordine ai Lidi ma anche in città. Vediamo. Controlli di ferragosto da parte di carabinieri in campo più di 120 i militari con un'attenzione particolare alla zona dei Lidi. Numerose le richieste per sedare litigi privati tutti risolti senza conseguenze. Individuati gli autori poi di due piccoli furti. I controlli si sono concentrati nelle aree della Movida ai Lidi dove una persona è stata trovata con un coltellino in tasca e quindi denunciata per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Sempre ai Lidi ma ad estensi i carabinieri la notte di ferragosto hanno arrestato un uomo di origine albanese di 32 anni. Perquisita anche la casa. In tutto i militari hanno trovato circa 50 grammi di cocaina, marijuana e di hashish oltre a un bilancino di precisione materiale per confezionare le dosi di droga. Lunedì mattina l'autorità giudiziaria a Ferrarese ha convalidato l'arresto. L'indagato ora ha l'obbligo di dimora nel comune di Comacchio con divieto di uscire di casa nelle ore notturne in attesa del rito direttissimo. E adesso ci occupiamo di un fatto di cronaca che ha fatto molto discutere a livello nazionale in questi ultimi giorni. Quello relativo a Beatrice Lucrezia Orlando che è una ricercatrice dell'Università di Ferrara aggredita nei giorni scorsi mentre era in vacanza in Calabria. La sua colpa di fatto è stata quella di accudire dei cani affamati. Sentiamo i dettagli nel servizio. Aggredita per aver salvato dei cani denutriti. È questo in sintesi quanto accaduto a Beatrice Lucrezia Orlando, ricercatrice dell'Università di Ferrara originaria di Potenza che si trovava in vacanza a Tortora in provincia di Cosenza. Tutto inizia il 4 agosto quando la donna, come raccontato da lei stessa, scopre una cagnolina denutrita con tre cuccioli. Dopo aver contattato l'empa che però non sarebbe potuto intervenire prima di due o tre giorni, decide di accudirli lei ma viene aggredita da una signora che abita nei pressi e che l'accusa di aver lasciato ciotole in giro. A quel punto la ricercatrice accudisce i cani nella propria abitazione fino a quando non arriva l'empa. Quando tutto sembra essere finito, il 6 agosto, Beatrice Lucrezia Orlando viene bloccata da 4 persone mentre sta andando a casa in bicicletta. Si tratta della donna che l'aveva insultata nei giorni precedenti insieme alla sua famiglia. Tutti insieme, secondo quanto raccontato dalla ricercatrice, iniziano a schiaffeggiarla e a picchiarla senza che essa ottenga aiuto alcuno dai passanti. Numerose le lesioni riportate, come è chiaramente visibile dalle foto che lei stessa ha postato sui social, a cui è seguita una denuncia. In attesa delle indagini, la donna è stata curata in ospedale, ma ora intende andare a fondo alla vicenda. E tra l'altro sono tanti gli attestati di solidarietà nei confronti della donna, anche da parte del mondo della politica ferrarese. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di Covid, attivati nuovi posti letto all'ospedale di Cona relativi ai malati di Covid e intanto proprio oggi sono partite le vaccinazioni senza prenotazione per i giovanissimi under 19. Sentiamo. Sono saliti a 54, nel bollettino precedente erano 6 meno. Stiamo parlando dei posti letto dedicati ai pazienti Covid all'ospedale Sant'Anna, dove è aumentato di un ricoverato l'occupazione complessiva nelle parti Covid di Cona. Il giorno di ferragosto è stata dimessa dal Sant'Anna una ragazza di 12 anni. All'ospedale del Delta la situazione occupazionale nei reparti Covid è stabile. Nell'ultimo bollettino in tutto il territorio ferrarese si registrano 52 nuovi positivi su 193 tamponi, 36 nuovi guariti e nessun decesso. In tutta la regione Emilia-Romagna dall'ultimo bollettino emergono 458 nuovi positivi, due decessi e un lieve aumento dei ricoveri in ospedale. Capitolo vaccini rispetto ai giorni precedenti. Calo fisiologico delle dosi somministrate a ferragosto. Il 15 agosto sono state più di mille le persone che hanno ricevuto il vaccino e che hanno fatto salire a circa 240 mila i ferraresi che hanno ricevuto almeno una dose e sono più di 204 mila i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale. Lunedì è stato anche il primo giorno delle vaccinazioni senza prenotazione per i ferraresi ed Emiliano Romagnoli under 19. Nei centri vaccinali estensi qualche decina di ferraresi tra i 12 e i 19 anni hanno derito, mentre sono stati una cinquantina i ragazzi che fino alle 13 si sono vaccinati senza prenotazione al lab della Fiera di Bologna, nel primo giorno di libero accesso a questa fascia d'età come indicato dal commissario straordinario Figliuolo. Da martedì 17 agosto inoltre tutti i ferraresi che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino avranno la possibilità di anticipare la data della seconda dose rivolgendosi al cupo, alle farmacie muniti di certificato vaccinale o attestato di esecuzione con la data di somministrazione della prima dose. Ma intanto come sapete questo weekend è stato anche quello del dramma di ciò che sta accadendo in Afghanistan, tante le reazioni anche da parte dell'Italia, ve ne leggiamo una che dice la comunità internazionale si adoperi subito per attivare corridoi umanitari per gli afghani che arrivano in Europa. La rete del Soroptimist Italia è sin da ora disponibile ad accogliere donne e bambini. Ad affermarlo è Mariolina Coppola, presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia, l'associazione mondiale di donne impegnate nel supporto all'avanzamento della condizione femminile nella società. Sentiamo. Non solo allarme ma un intervento concreto per quanto possa essere di dimensioni circoscritte per le donne e i bambini che tentano di fuggire dall'Afghanistan ormai in mano dei talebani. Il Soroptimist International d'Italia, associazione di donne da sempre a fianco delle donne, laddove queste vivono situazioni di emergenza, si dichiara disponibile attraverso le soci e i club sparse in tutta Italia ad accogliere donne e bambini. Intanto, oggi pomeriggio, lunedì 16 agosto, è arrivato a Roma il primo aereo partito da Kabul ieri notte per riportare in Italia un centinaio di nostri connazionali dall'Afghanistan che da ieri, con l'entrata delle ministre talebani nella capitale Kabul, sono i nuovi signori del paese. Certamente la conquista dell'Afghanistan, iniziata con il ritiro delle truppe USA e occidentali, tappate di talebani in parte dei signori della guerra delle regioni del nord, che si sono arrese o alleati con i vincitori, non è stata una passeggiata come i medi occidentali ripetono ogni giorno, anche se le ministre talebani hanno avuto minore resistenza di quanto ci si potesse aspettare. Le forze militari dell'ordine afghane si sono infatti arrese velocemente, mentre il presidente afgano Ashraf Ghani è scappato ieri precipitosamente da Kabul con quattro aerei ed un elicottero, si dice, pieni di denaro. Secondo le dichiarazioni del ministro degli affari esteri Di Maio, nell'ambasciata italiana, in attesa del rimpatto di tutti gli italiani, rimarrà un rappresentante del corpo diplomatico, per garantire un presidio diplomatico nell'aeroporto. Anche la Germania si sta concentrando sull'operazione di salvataggio, ma si prepara ad accogliere, secondo le parole di Angela Merkel, anche nuove ondate di immigrati, e la Russia chiede una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di cui l'Agenzia per i Rifugiati ha ricordato che solo nel 2021 360.000 afghani hanno lasciato le loro abitazioni a causa dell'aggravanza della guerra, una tragedia che riguarda già migliaia di bambini. E mentre i capi militari talebani si preparano ad insediare un nuovo governo cosiddetto di transizione, rivolgendosi alla popolazione, con parole rassicuranti, da Kabul e dall'intero paese. Si moltiplicano i messaggi di chi chiede aiuto all'Occidente, in particolare alle donne, che temono che il regime dei talebani annulli le poche conquiste di libertà guadagnate negli ultimi vent'anni. I civili, intanto, continuano a tentare di fuggire dal paese. All'aeroporto di Kabul si ripetono le scene strazianti, già viste a Saigon, di ragazzi aggrappati in motore degli aerei americani che decollano. Intanto in questo servizio abbiamo parlato di donne e sono cinque le priorità della strategia nazionale per la parità di genere, lavoro, reddito, competenze, tempo e potere. Presentato dalla ministra Elena Bonetti in Consiglio dei Ministri il 5 agosto scorso, prima del passaggio in Consiglio dei Ministri la stessa strategia era stata oggetto di informativa in conferenza unificata, riscuotendo consenso e approvazione da parte dei rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni. Cominceremo da questa sera a vedere di cosa si tratta per entrare successivamente nel dettaglio delle misure. Sentiamo. Indica obiettivi e target dettagliati e misurabili da raggiungere entro il 2026. È la prima strategia nazionale per la parità di genere elaborata nel nostro paese con l'obiettivo di guadagnare cinque punti nella classifica del Gender Equality Index del Legge, istituto europeo per l'uguaglianza di genere fondato nel 2010, che oggi colloca l'Italia al di sotto della media europea per quanto riguarda l'uguaglianza tra i generi. Il punteggio, poco più alto di 63 punti, indica i traguardi raggiunti in sei domini chiave, lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute, nonché nei loro sottodomini. Più altri due che sono la violenza contro le donne e le disuguaglianze intersezionali, ovvero sia l'intreccio con il genere di altri fattori considerati determinanti nel favorire o penalizzare i diritti delle donne, quali la disabilità, l'età, il livello di istruzione, il paese di nascita e la tipologia di famiglia. Al ritmo attuale, nonostante i progressi importanti registrati negli ultimi anni, le donne dell'Unione Europea, grazie al punteggio medio di 67,9, dovrebbero attendere a lottare ancora a 60 anni prima di arrivare all'uguaglianza. Molti più sono gli anni che le donne dovrebbero aspettare in Italia, che si attesta, dicevamo, a 63,5 punti. In più la pandemia di coronavirus ha rallentato il processo e in molti casi l'ha ostacolato. La strategia nazionale, presentata dalla ministra Bonetti, che si ispiera all'agenda Requality Strategy 2020-2026 dell'Unione Europea, con una prospettiva di lungo termine, rappresenta allo schema di valore la direzione delle politiche che dovranno essere realizzate e anche il punto di arrivo in termini di parità di genere. Per il Governo italiano, la strategia nazionale per la parità di genere è di riferimento per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la riforma del Family Act. Il documento strategico è il risultato di un percorso ampio e partecipato che ha coinvolto le amministrazioni, le parti sociali e le principali realtà associative. E adesso torniamo nel centro della nostra città. Sono stati rimossi i ponteggi della statua di Girolamo Savonarola, il cui restauro è stato interamente finanziato con l'Art Bonus dal titolare della vicina osteria. Ci apprestiamo a restituire la città a un altro luogo simbolo e con l'Art Bonus vogliamo completare inoltre nuovi interventi, tra cui quelli sulle statue del Ponte di San Giorgio. Così l'assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi, nelle ore in cui gli operai hanno tolto i veli a uno dei simboli di Ferrara, ora tornato agli antichi splendori. Torniamo a occuparci del giorno di Ferragosto, dove la voglia di culture e di arte non è andata in vacanza, a codi di turisti in castello ieri mattina e a Ferrara erano tanti visitatori che hanno sfidato le temperature torride per godere delle bellezze ferraresi. Vediamo. Sono più di 1200 le persone che hanno fatto visita ai musei di Ferrara tra sabato e domenica. Il Castello Estense si conferma la destinazione più richiesta, con più di 700 accessi, seguita da Schifanoia con quasi 300 persone e seguita dal Museo della Cattedrale con 113 persone. Nel dettaglio, oltre ai musei aperti, con sette rassegne complessive, tra sabato e domenica in città l'offerta di eventi ha contato, tra le altre cose, gli spettacoli per bambini e famiglie al Parco Marco Coletta e la rassegna gastronomica retrogusto. Sulla Darsena è tornata la festa di Ferragosto dopo la pausa del 2020. Nell'ambito della rassegna Un fiume di musica, AMF Scuola di Musica Moderna ha proposto una serata sulle note della musica brasiliana. Anche ad agosto Ferrara si conferma ricca di eventi e nel giorno di ferragosto la città si è dimostrata particolarmente viva, ha detto l'assessore al turismo Matteo Fornasini. Numeri che rivelano un interesse vivo per l'arte e la cultura e che sono chiaramente soggetti ai vincoli del contingentamento e alle nuove limitazioni degli accessi, ha detto l'assessore alla cultura Marco Guglinelli. Il 15 agosto e per tutto il mese di agosto sono stati e saranno aperti sempre il Museo della Cattedrale Schifanoia, Palazzina Marfisa Destre con la mostra del fotografo dell'acqua Claudio Copporussi. Anche Casariosto sarà aperta e anche il Castello Estense. E adesso apriamo la pagina sportiva. Prima uscita dei bianco-azzurri targati Tacopine e anche prima stagionale ufficiale per Clotet. Sabato scorso la squadra di Ferrara è stata sconfitta per 2-1 dal Benevento, purtroppo al 124esimo minuto, allo stadio Vigorito nel turno di Coppa Italia. Per noi c'era Alessandro Sovrani, quindi sentiamo il servizio. Passa il Benevento che si impone 2-1 dopo due tempi supplementari, protagonisti assoluti, comunque direttore di gare il signor Cossu e Nasca che era impegnato oggi al VAR. Noi non abbiamo iniziato bene la partita, ma abbiamo cresciuto durante il primo tempo e dopo il secondo tempo io penso che mi è piaciuto molto la squadra, come ha giocato, come è andato avanti, come ha crescuto durante la partita e specialmente come ha lottato fino alla fine. Mi dispiace molto il risultato, penso che non è mai risciuto, che la squadra non è mai risciuto di perdere, ma se ha perso mi dispiace molto il risultato. Io oggi ho visto un calcio di qualità, nel secondo tempo specialmente, un calcio molto verticale, abbiamo arrivato a creare situazioni di pericolo, due o tre passaggi di qualità per terra, di una mobilità, ma ancora è l'inizio, specialmente con tanto giovani, calciatori giovani, non è facile fare un buon inizio, stare forte. Penso che tutti dobbiamo tenere fiducia nella squadra, specialmente nel calciatore giovani, dobbiamo aiutarlo al massimo e tutti dobbiamo tenere consciente che non va a essere facile. Su questa gara sono emersi i soliti problemi in casa spalla, certamente anche oggi abbiamo avuto la conferma che questa è una squadra che necessita di tanti rinforti, oltre a tre pallelli che è arrivato oggi a Ferrara. Servono almeno due difensori, due centrocampisti ed un attaccante. A Gioia Tacopina il compito di mettere nelle condizioni Tarantino e Zavone di effettuare queste operazioni per mettere a loro volta nelle condizioni Pepe Clotette di poter contare su un gruppo in grado di dire la sua e di non correre rischi nel prossimo campionato di Serie B. C'è tempo, il mercato chiuderà il 31 agosto, ma indubbiamente i riporti non sono necessari, sono indispensabili. Questa è dunque la prima uscita della spalla di Tacopina, mentre sappiamo che Simone Colombarini è rimasto nel CDA in attesa del passaggio delle ultime quote della società bianco-azzurra che avverrà il prossimo gennaio 2022. La famiglia Colombarini continuerà comunque a sponsorizzare la SPAL, ma quale sarà l'impegno in generale nello sport? Ce lo dice direttamente colui che fino all'altro giorno, insieme al padre, è stato il patron bianco-azzurro, Simone Colombarini. Escludo un nostro coinvolgimento diretto, un mio coinvolgimento diretto nello sport, nel prossimo futuro, per due motivi. Uno è economico, perché comunque questi anni di gestione non sono stati leggeri e come ho detto prima, in questo passaggio abbiamo messo anche il nostro impegno per agevolare il passaggio di quote, sapendo che stiamo facendo qualcosa di buono, di utile per la SPAL e per garantire un futuro sicuramente più rosio di quello che avremmo potuto garantire noi. L'altro motivo è anche quello che, insomma, se abbiamo iniziato questa avventura con la SPAL, non è stata una cosa per caso, mettiamo dei soldi nello sport perché ci interessa. La SPAL è nata un po' come passione, la voglia di fare qualcosa per la propria città e nel tempo ci si è affezionati, innamorati sempre di più e siamo andati avanti investendo sempre più risorse. Non è una cosa semplice, non è una cosa che si può trasferire così da un momento all'altro senza pensarci più di tanto. Quindi questa passione che ci ha spinto a fare questo passo non è una cosa che oggi sento per nessun'altra realtà sportiva. Quindi anche per questo motivo, ma soprattutto per il primo motivo, escludo un nostro impegno diretto nello sport in un prossimo futuro. Poi negli anni a venire, parlando a lungo termine, mai dire mai, ma assolutamente non è quello che mi interessa in questo momento. Sicuramente una cosa che mi sento proprio di escludere totalmente è quello di un ulteriore impegno nel calcio, anche perché quello che ho fatto, ho sempre detto, lo posso fare per la squadra della mia città e non riesco a vedermi impegnato in una squadra che non sia quella della mia città e della mia provincia. Quindi in questo momento c'è qualcun altro che può fare molto meglio di me per la squadra della città. Cercherò, come detto prima, di stargli vicino. Il nostro impegno come sponsor non mancherà. Queste sono dunque le parole di Simone Colombarini che vanno a chiudere il nostro TV giornale. Vi ricordo come sempre telestension.it e i nostri canali social, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram per queste e altre notizie. Con questo è veramente tutto. Grazie per averci seguito e a tutti l'auguro di una buona serata.